Un drammatico incidente si è registrato poco dopo le 11 di questa mattina all'interno del noto negozio di calzature e pelletteria Pitta Rosso in piazza Cavour a Forgia. Un uomo, Carlo Clemente, è morto dopo essere caduto dalla scala mobile del negozio. Panico tra i clienti e i commessi dell'esercizio alla vista del corpo dell'uomo in un lago di sangue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le volanti della polizia e dei carabinieri che hanno fatto sgomberare il locale. Da quanto si è preso, l'uomo, per cause ancora da accertare, ma molto probabilmente per un malore, ha perso l'equilibrio e ha sbattuto violentemente la testa contro i gradini della scala in metallo. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sarà l'autopsia a determinare le cause della morte.